Sono Tony Stark, costruisco cose eccezionali, ho una ragazza meravigliosa e occasionalmente salvo il mondo. Allora perché non riesco a dormire? Mi avete letto per il mio unico programma, difendere il nostro paese a tutti i costi. Il mandarino deve essere fermato. Tu non sai chi sono. Non mi vedrai mai arrivare. Cosa intende fare riguardo a questi attacchi? Avremo tutti gli occhi addosso. La domanda è dov'è Tony Stark? È cambiato tutto ora, devo proteggere l'unica cosa senza la quale non vivrei. Sei tu. Signor Stark, oggi è il primo giorno di quel che resta della tua vita. Via! Ti offrirò una scelta. Preferisci una vita inconsistente? o una morte considerevole? Tu non sei un uomo. Sei solo uno squilibrato. Non mi fai paura. La politica non c'entra. Solo una bella vendetta all'antica. Servono potenziamenti. È compito tuo. Ecco i miei amichetti. Non mi fai paura. 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 Grazie a tutti.